Mamma mia! Che kill! Scusatemi tantissimo per l'interruzione Versione praticamente Perché tutto il mondo è ricoperto di neve Di Fortnite Il Ice King che si mette a praticamente Divorare tutta la mappa di neve È qualcosa di fichissimo Se non avete visto l'evento è questo qua Comunque come potete vedere Io finalmente ho finito il Battle Pass Ho finito il Battle Pass Ho la skin dell'Ice King E l'ho finito giusto giusto Quando guardate un po' C'è stato questo evento Ed è assurda questa cosa effettivamente Cioè come ho fatto a conciliare tutte e due le cose insieme Non ci credo neanche io Ma comunque io spero che il video vi piacerà Arriviamo almeno per questo video a 3000 like E mi raccomando seguitemi su Instagram Che sto facendo un contest di 2500 V-Bucks Quindi seguitemi su Instagram Perché a 30.000 follower facciamo appunto il contest E oltre questo seguitemi su Telegram Che ho già speso ero official Perché hai 2000 follower su Telegram Farò un altro contest però su Telegram Questa volta Dove delle persone Cioè farò un contest Un'estrazione Che il vincitore Farà un video proprio con me Quindi direi di non perdere altro tempo Seguitemi in entrambe le parti Per stare aggiornati in tutti e due i contest Ma oltre questo Niente Niente Iscrivetevi Attivate la campanellina E basta Benvenuti Io sono l'Ice King Baby Guardate com'è bello Sì voi sapete fare questo Miei sudditi Vai via tu Vai via Io sono l'Ice King Guardate raga non ce l'ha quasi nessuno Questa skin Come tipo La mia skin Guardate che figata Wow Ragazzi Siamo atterrati Ok perfetto Allora cioè in realtà non è che siamo ancora atterrati Allora vediamo dove possiamo andare Allora 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 Io direi di andare A luttare Ho una casa di queste Però credo che sono troppo alto No No sono giusti in realtà Perfetto Adesso atterrò qua Allora Posso dire che non trovo mai nessuna cesta io Ah aspettate qua dietro Eccola qua Ah dammi qualcosa di bello Ma dai Posso Ok cacchio Posso accettarlo Allora Prendiamoci il legno Perché poi ci serve per costruire Perfetto Vediamo Se giocando con la skin dell'Ice King Siamo più forti o meno Ma non credo proprio Cioè alla fine che cazzo Cioè non è per niente Vero Poi va bene Allora Perfetto Grazie per la generosità di Fortnite Ogni giorno Mi fa capire che effettivamente Non c'è mai nulla Per me Ok morto Dammi tutta la tua roba Dammi anche questo Oddio Ah ok va bene C'è il coso quello qua Dei Dei mostri Innevati Va bene ho capito Va bene Allora Ah 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 Ok perfetto Allora Ah vero ho fatto una kill Wow Ok perfetto scusate Non è dovevo Era la challenge in teoria Però Me la so scordata Ah Ok Allora Io sono messo veramente male di armi Mi servirebbe Oh Ok Mi sa che c'è qualcuno qua Ma dove cacchio sono Oh che cacchio Oh mio dio Che è successo Ti è successo qualcosa di assurdo raga Ma qua non hanno ultrato nessuno Allora me ne vado qua sotto Ciao Allora vediamo Ma un po' un po' buono No eh Via 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 Ok ca Porca No Cacchio Ah Vado da questa parte Ci saranno un casino di persone Però voglio andare lì Così che almeno faccio la kill E urlo Boom Spam Spim e spam Ok perfetto Ci siamo Ci siamo Ci siamo Veloci 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 Bene Ok Ma non c'è nessuno Veramente Mi puzza Mi puzza È impossibile Ma veramente non c'è nessuno qua Beh allora Luttiamo Bene allora Abbiamo questo Abbiamo questo Ma solitamente qua ci sono due chest E giustamente questa volta non ci sono però Raga ma qua ci ne sono un sacco di queste cose ghiacciate Oh cacchio Che è quello Ah ok Sono tizi brutti Qua c'è qualcuno Oh Stanno combattendo lì sopra Eh già Ora ci andiamo Andiamo a fare il clean up del cacchio Ok Ok questo è forte Aia Mamma mia Che kill Che kill Che kill Che kill Che kill che io ho fatto Ok ci sono i mostri che stanno rompendo il cacchio Oh Mamma mia Raga avete visto Ho editato subito Switchato Io l'ho fatto fuori Mamma mia Che kill Oh Gesù Non l'ho mai fatto in realtà Cioè Poi Va bene con tutto Però veramente ho fatto una Kill che per me Supera gli standard Ma veramente di tanto Qua non hanno luttato nessuno Strana sta cosa Tu volevi Uccidere Ice King Eh Ah tu forse non hai capito cacchi Non ti hai a che fare però Oh cacchio Ok sono dentro la safe Per fortuna Bene male Oh c'è una moto qua Ma dove cacchio è L'ho sentito qua sopra raga Niente è troppo difficile Troppo complicato per me Aia Ah Ma no Pensavo che lanciassero le cose Questi qua Porca Oh cacchio No 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 Via 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 Ma che cacchio raga Ma io non pensavo che lanciassero I I ghiaccioli questi Oh no Sono lontanissimo Devo scappare proprio Devo scappare proprio Via 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 sbri Via sbri Non si è messo tanto bene qua Madonna Devo passare da tutte Raga Non so se ci riuscirò mai Cacchio Quindi mi raccomando Ragazzi Se volete 2500 vbucks Basta che mi seguite su instagram Che c'ho la spesa Nel trattino basso E lì Al raggiungimento Dei 30.000 follower Farò un contest Quindi Credo che Sia la cosa più bella Al mondo Perché A me veramente piace un sacco Fare i contest O meglio L'ho scoperto Da questo primo contest Che ho fatto su telegram Nel quale Appunto Semplicemente A mille Mille membri Che abbiamo raggiunto Ho fatto un contest Di 10 euro Che sono pochi Ok però È comunque Un qualcosa Che alla fine Se uno li vince Mi Fanno tanto Specialmente per qualcuno Che magari Non riesce Perché i suoi genitori Non vogliono Eccetera eccetera Quindi vedersi 10 euro In mano E poter utilizzare Per il suo gioco Magari preferito È qualcosa di veramente Spettacolare Quindi Pensate con 2500 invece Veramente Quindi Speriamo Arriviamo di subito A 30.000 follower Un entrato quasi Intrufolato Non muore Raga non moriva Cacchio Cioè voglio dire Ma perché Ma a me non mi ha sparato Per nulla Cioè ma Ok scusate Dove era la challenge Ah mio dio Sono pazzo Allora Vediamo un po' Cosa c'è qua Ora hanno rimesso Le balestre Wow Eh vabbè Io credo che posso Andarmene Non trovavo nessuno E quindi me ne vado Cioè Nel momento mi sono seccato Oh cacchio Raga 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 forse Riesco ad entrare Sull'aereo Forse ci riesco Ma è un hub Questo È un default Ok Questo lo sa Che io ci sono Di sopra Lol Aia madonna E io che non ho shield Neanche Noo Noo C'ero salito di sopra Raga Ero salito sopra L'aereo Potevo Volevo ucciderlo Che cacca Se gli sparavo prima Veramente l'ho ammazzato Soll'aereo Mi metteva a fare Come una bestia Ragazzi spero che il video Vi sia piaciuto Come vi ho detto Arriviamo a 30.000 follower Sul mio instagram Caccio Sbraceroff Trattino basso Per non perdervi Appunto il contest Di 2500 v-bucks E specialmente Seguitemi su telegram Caccio Sbraceroff Perché a 2000 follower Cioè 2000 membri Sul telegram Farò il contest Per vincere un video Insieme a me Che dire Noi ci vediamo In un prossimo Nuoissimo video Seguitemi In questo video social Che vi ho detto Iscrivetevi al canale Attenendo la campanellina Delle notifiche Per non perdervi Appunto nessuna notifica E noi ci vediamo In un prossimo Nuoissimo video Ci si becca Ciao